A Sigillo, in provincia di Perugia, a causa della neve, un autobus che era rimasto bloccato è poi finito fuoristrada. Il mezzo è stato soccorso e recuperato da una squadra dei Vigili del Fuoco. Il video con il quale abbiamo montato il servizio è stato realizzato direttamente dallo specialista della comunicazione del corpo dei Vigili del Fuoco e sono gli stessi uomini del soccorso che sul profilo Twitter segnalano che nell'incidente sono rimaste ferite due persone. Niente di grave, ma sicuro tanta paura e tantissimo lavoro in condizioni impossibili ed estreme per i Vigili del Fuoco. Le abbondanti nevicate delle ultime 24-48 ore associate al vento forte stanno aggravando non poco la situazione delle popolazioni già stremate nell'area dell'Aquilano dal violentissimo sciame sismico. In tutte le aree montane dell'Appennino centrale, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, di conseguenza in aumento il significativo rischio di valanghe. Attualmente il livello di allerta è sul grado forte, 4 in aumento, il massimo è molto forte, 5, la causa delle possibili valanghe da ricercare appunto anche in questo continuo stilicidio di eventi sismici.